Allora ragazzi per scaricare discord basta andare su google e cercare discord Una volta aperta questa pagina andiamo su download e facciamo scarica Se abbiamo windows lo scarichiamo altrimenti cerchiamo discord su mac E c'è un altro procedimento Aspettiamo che si scarichi Una volta scaricato clicchiamo e si aprirà l'installazione Questa schermata è quella che vi comparirà una volta installato discord Qui andrete su registrati, inserirete una mail, un nome utente, una password, una data di nascita E poi farete continua e procederete con l'attivazione del vostro account Se avete già un account basta entrare Ora io entro con il mio account di prova e vediamo cosa c'è dentro Una volta aperto discord vi troverete davanti a questa schermata Da qui poi entrerete direttamente sul server una volta che vi condividerò il link del relativo server Entrati sul server troverete questo messaggio di benvenuto che vi dice di leggere le regole e poi anche le informazioni del canale Cliccando su regole si andrà nella sezione regole e poi su info per vedere le informazioni del canale Qui spiega un po' come è suddiviso questo server Quindi abbiamo che chat abbiamo e a che cosa servono Abbiamo principalmente due blocchi Uno per il test d'ingresso, quindi test studio E uno per l'università Abbiamo una chat testuale dove si può soltanto scrivere ed è un canale pausa Poi abbiamo un'altra chat testuale dove ci si organizza per lo studio Si può dire guarda ci incontriamo questo giorno alle 5 e andiamo nell'aula di biologia Così tutto per via chat Come possiamo vedere si può soltanto scrivere Poi invece abbiamo proprio le sezioni, le video chat di biologia, chimica, logica, fisica, matematica, cultura generale eccetera Proprio per la preparazione del test d'ingresso In più c'è l'aula acquario L'aula acquario che cos'è? È un'aula dove non si può parlare ma si può accendere soltanto la videocamera Quindi si avrà come una biblioteca virtuale Ognuno potrà vedere l'altro che studia ma non si può parlare Da qui si fa disconnetti e si esce Nell'aula invece di biologia possono entrare 10 persone come tutte le altre aule Perché paura che aule troppo grosse poi diventi complicato gestirsi Visto che tutti possono parlare Quindi ho messo il limite a 10 Però potranno essere aumentate, diminuite Si può fare veramente di tutto In quest'aula si può condividere il proprio video Ovviamente sarà condivisa anche la voce Si può condividere anche lo schermo Quindi proiettare qualcosa se qualcuno ha qualcosa da proiettare In questo modo Poi si può spegnere il microfono Si può rispegnere il video Si può spegnere la condivisione E ci si può disconnettere anche direttamente dalla chat proprio Poi abbiamo una video chat sempre per chiacchierare E un'altra video chat sempre per organizzazione Quindi non a chat solamente ma guardandosi in faccia Poi abbiamo la sezione dell'università Per chi è già entrato magari in qualche corso E ha bisogno di qualche aula studio Qua ci sono 4 aule studio Anche queste qua sempre da 10 persone E un'aula acquario Che funziona esattamente come quella di prima E poi sempre delle sale per chiacchierare E per organizzarsi lo studio Infine un'aula libera Che quindi ha 100 persone Possono entrare un sacco di persone Però non so quanto sia effettivamente funzionale Magari per grandi gruppi può essere utilizzata Poi vedremo come utilizzarla al meglio Infine c'è quest'altra sezione per le idee In cui c'è suggerisci idea Una chat in cui potete scrivermi Magari se avete delle idee Come aumentare il numero delle aule Creare qualche altra stanza E qualsiasi cosa vi venga in mente Per migliorare il canale O di quello di cui avete bisogno E una stanza per l'aiuto Se avete problemi Se volete segnalare qualche cosa E poi interverrò io Questo è tutto Mi sembra tutto abbastanza lineare E facile da utilizzare Se volete invitare qualcuno all'interno dell'aula Dove siete Basta cliccare con il tasto destro E fate invita Vi si genererà un link Che potrete inviare direttamente In una chat O su whatsapp O ovunque voi siate Questo è quanto Spero vi possa essere d'aiuto E che renda piede questo modo di organizzarsi E di vedersi Magari per studiare insieme E affrontare quella che è la sessione O qualsiasi cosa Riguardante sia l'università Che il test d'ingresso Ciao ragazzi 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 Ciao ragazzi